Sono 24 le persone arrestate per allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica in due palazzine popolari di Licata. Il blitz dei carabinieri è scattato alle prime luci dell'alba a Licata, una cinquantina i militari che contemporaneamente hanno fatto irruzione nei sottoscala di alcune palazzine del quartiere popolare denominato Torregrossa, dove vi era un forte sospetto che potessero trovarsi allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica. I sospetti si sono rivelati subito affondati quando davanti agli occhi dei carabinieri hanno fatto capolino decine e decine tra cavi elettrici allacciati in modo precario e turbature posticce. È bastato poco ai carabinieri per comprendere di essere di fronte a una generalizzata attività di furto in corso ai danni del gestore idrico ed elettrico. Gli accertamenti sono andati avanti per tutta la giornata, con una vera e propria cinturazione dell'intero quartiere. 24 i capi famiglia di altrettanti abitazioni del posto sono stati subito arrestati per furto di acqua. Tra questi alcuni sono finiti in manette anche con l'accusa di furto di energia elettrica. L'attività dei carabinieri ha permesso di scoprire l'esistenza di una vera e propria condotta abusiva che deviava parte dell'acqua pubblica all'interno di una vasca condominiale, dalla quale poi si dipartivano le altre tubature, che grazie a un sofisticato sistema di pompe idrauliche servivano gli appartamenti in questione. Insomma, acqua e luce gratis. Le verifiche effettuate dai carabinieri di Licata hanno evidenziato che il sistematico furto d'acqua ed energia elettrica avveniva da anni, in alcuni casi addirittura da ben sette anni. Sono ancora in corso le operazioni di quantificazione del danno unitamente ai tecnici e delle rispettive società di gestione, ma il sospetto è che nel tempo non siano state pagate bollette per oltre un milione di euro. Intanto la condotta abusiva dell'acqua è stata distrutta e le pompe idrauliche sono state sequestrate. Anche la rete elettrica è stata rimessa in sicurezza e i collegamenti abusivi interrotti. Per contrastare questa forma di malcostume e di grave reato che arrega danni ai gestori in prima battuta, manca agli utenti onesti, sono necessarie queste attività di contrasto messe in campo dai carabinieri che stamattina nel corso di una conferenza stampa hanno relazionato sugli esiti dell'operazione. Si è trattato di un intervento particolarmente corposo che è stato condotto dai carabinieri di Licata, proprio in città, in uno dei quartieri che erano sospettati per avere delle irregolarità da questo punto di vista. Diciamo che i carabinieri nella loro attività di controllo del territorio avevano notato delle tubazioni sospette e questo ha portato ad un controllo che è stato effettuato in grande stile da circa un'ottantina di carabinieri che hanno cinturato l'intero quartiere. I controlli si sono svolti serenamente e in 24 dei 28 casi analizzati effettivamente si sono registrati degli allacci abusivi dal punto di vista della condotta idrica e in un caso anche dal punto di vista della prensione di energia elettrica. Si è trattato di un intervento particolarmente determinato che vuole essere anche un segnale perché i carabinieri hanno intenzione di tollerare delle sacche di illegalità e quindi sono intervenuti in maniera corposa perché questo possa servire anche da monito in questo particolare settore. In uno degli appartamenti in cui siamo intervenuti purtroppo un bambino piccolo di tre anni aveva ingerito del cibo, un chewing gum e alle urla appunto dei familiari sono intervenuti i carabinieri che sono appunto riusciti a fare spellere questo corpo estraneo al bambino che quindi ha potuto riprendere a respirare quindi questo significa che gli interventi vengono fatti con grande determinazione ma non disgiunta dalla grande umanità che caratterizza i carabinieri.